Si è conclusa con il concerto del famoso rapper italiano Moreno, la festa di primavera del quartiere Europa Don Bosco. Ieri sera a Parco Europa sono stati centinaia i bolzanini, soprattutto giovanissimi, che si sono accalcati davanti al palco dove il cantante genovese ha dato spettacolo, mandandoli in visibilio. Noi lo abbiamo incontrato proprio poco prima del concerto ed ecco quello che ha detto ai nostri microfoni. Sono molto contento anche perché mi hanno un po' spiegato anche con l'agenzia che trova le serate in giro per l'estate e l'inverno che non è facile venire a suonare a Bolzanovo perché non tantissimi artisti del mio genere spesso vengono a suonare qui, quindi sono molto felice che mi abbiano dato questa possibilità e cercherò di ripagarli sul palco. Ma Moreno non sarebbe il cantante che oggi, se non fosse stato per la sua partecipazione e vittoria, ha noto talent di Canale 5, amici di Maria De Filippi. Il mondo più duro, il mondo più underground non ha preso bene questa cosa, ma di conseguenza nel bene o nel male si è aperta una nuova venatura comunque nel nostro genere perché comunque altri già inseriti che non hanno avuto bisogno di passare da un talent comunque ci vanno come ospiti, hanno iniziato a fare la giuria, quindi comunque c'è stata una spaccatura direi positiva che è riuscita a portare il rap anche in altri ambiti. E le novità in campo discografico non mancano. Inizierò a fare il disco nuovo adesso dopo l'estate, però penso che visto che comunque l'ultimo disco è stato compreso nel 2015, alla fine aprile 2015 eravamo usciti, direi che parliamo del 2016. Però ci sono un paio di progetti imminenti di cui uno potrebbe essere presentato a Milano che dovrebbe iniziare verso l'estate, verso il riniziare delle scuole e così, quindi fra poco svelerò qualcosa, ma intanto se andate sui miei canali ufficiali ho svelato quali sono le date, adesso edite, del tour che stiamo facendo in giro per l'Italia. Rosso, 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 verde, vai!